ciao a tutti e benvenuti su menti taro è un nuovo episodio di tarotips oggi voglio parlare dei tre errori più comuni che si fanno all'inizio dello studio dei tarocchi almeno per la mia esperienza basate anche su l'esperienza mia proprio personale gli errori che ho potuto fare anch'io all'inizio innanzitutto quello che penso sia uno degli errori maggiori è quello di aspettare di sapere di conosce benissimo tutti i significati di tutte le carte dei tarocchi prima di iniziare a leggerli a se stessi ma anche agli altri agli altri intendo non ovviamente a livello professionale ma a livello amatoriale ovvero magari ad amici a familiari eccetera e perché si impara leggendole quindi confrontandosi anche con le esperienze diverse dalle nostre esperienze di vita diverse quindi appunto leggendole a degli amici o a dei familiari si possono vedere come appunto le carte interpretano le vicende di queste persone e non importa se non conoscete a perfezione tutti i significati perché intuitivamente guardando la carta vi verrà comunque in mente qualcosa e scoprirete piacevolmente che se lasciate fluire la vostra intuizione e questo messaggio corrisponderà effettivamente a alle vicende di della persona a cui leggete le carte quindi risuonerà con questa persona e soprattutto quello che consiglio è di non leggere le carte agli altri o a se stessi con il libro accanto e quindi far riferimento ai vari significati ogni volta che c'è una carta che non ci pare molto chiara perché in questo modo noi stiamo ammazzando il flusso intuitivo assolutamente sbagliatissimo se volete leggete il libro però poi quando iniziate a mettere giù le carte a leggerle nascondetelo dalla vostra vista e andate a braccio perché altrimenti appunto la vostra intuizione non riesce a lavorare quindi iniziate sicuramente anche se appunto non sapete tutti i vari significati che può avere ciascuna carta del mazzo dei tarocchi per quanto riguarda il secondo errore più frequente è quello di cercare di memorizzare i significati delle carte attraverso appunto un approccio didattico quindi che so questo indica un interscambio questo indica un dono eccetera eccetera perché poi la lettura dei tarocchi diventa un po robotica un po come dire standardizzata più o meno gli stessi significati da tutte le parti le carte per poter realtà usarle bene bisogna adottare un atteggiamento esperienziale empirico per un verso cioè questa carta che sentimenti mi genera a che esperienza mia personale posso connetterla cosa mi ricorda nella mia vita questo tipo di carta e quando per esempio questo è un metodo che funziona molto bene con le carte della corte cioè con le regine i re i pagi e i cavalieri cercare di ricordarsi di una persona che effettivamente ha lo stesso tipo di caratteristiche psicologiche della carta la regina di spade noi sappiamo le spade è un seme che si riferisce a sfera mentale alle decisioni ma anche al vedere un po tutto bianco e nero oppure comunque avere un atteggiamento di discernimento di razionale quindi chi è una figura appunto nella vostra vita che potrebbe richiamare queste caratteristiche psicologiche insomma cercare di vivere la carta soprattutto rapportarla alle proprie esperienze personali più che memorizzare dal libro i vari significati perché poi bisogna veramente creare una un link un legame tra noi e il mazzo un legame personale per cui alla fine i vari significati si più o meno sanno quelli generali però sicuramente li farete propri quindi leggermente diversi da un altro cartomante perché poi le stesse carte hanno significati diversi secondo chi le legge perché ogni persona che legge le carte le personalizza ne personalizza i significati e questo è molto importante terzo e ultimo errore comune è quello appunto di cercare di imparare a leggere le carte dei tarocchi in fretta non lo consiglio perché poi appunto va a finire che avete un approccio un po standardizzato nei confronti delle carte in realtà e le letture quindi saranno danneggiate in realtà i tarocchi è un sistema molto complesso sicuramente che si rifà a varie tradizioni di tipo esoterico sia orientali che occidentali e sicuramente appunto questo crea un linguaggio molto complesso tant'è vero che non si finisce mai di impararli cioè io considero lo studio le tarocchi qualcosa che può durare una vita nel senso che sicuramente si può iniziare a leggerli appunto come ho detto all'inizio fin da subito ciò non toglie che appunto vedrete che più studiate tarocchi più troverete altri altri significati che cambieranno con l'evoluzione della vostra vita stessa della vostra testa nel senso che le vostre esperienze cambiano e questo si riflette nelle carte dei tarocchi quindi è un più che altro un viaggio lo studio dei tarocchi un viaggio anche interno che si evolve con la vostra evoluzione personale e quindi non non pensate appunto che sia come una pratica appunto che abbia un obiettivo di sapere tutti i significati tutti i trucchetti per poter leggere le carte in realtà è appunto un viaggio sia a livello tecnico perché gli studiosi dei tarocchi sono stati tanti ancora ce ne sono tanti di nuovi ogni 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 anno ognuno apporta una tecnica di lettura un vocabolario di significati leggermente diverso o totalmente diverso è interessante studiarli è interessante arricchire la propria la propria conoscenza delle varie tecniche apportate da questi autori però è anche appunto un viaggio interno nel senso che siccome l'approccio deve essere empirico nel senso relazionare le carte con le nostre con il nostro io interiore ovvero con le nostre esperienze di vita con i nostri sentimenti cercare di capire quali sentimenti quali emozioni suscita una carta ovviamente questo porta a un cambiamento dei significati personale nel corso della della nostra vita quindi non si finirà mai di studiare i tarocchi se lo volete insomma se venne appassionato ecco questo il discorso se volete appunto avere un approccio basico quello si raggiunge abbastanza in fretta però insomma non siate ansiosi perché appunto è importante prendere il vostro tempo per connettervi sinceramente profondamente con con le carte in questo modo veramente solamente potrete essere bravi poi nel leggerle spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto in caso mettete il like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivate la campanella così da non perdere i video successivi anche di tarotips a presto ciao 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 Grazie a tutti.